Allora ragazzi, buona domenica a tutti, vi ho caricato il mucco manga di venerdì e sabato con il tutor, vi aggiorno per l'ultima volta, ultima volta perché poi fino a venerdì non dirò più nulla a riguardo. Ho appena sentito i carabinieri di Melito e li ho avvisati di aver notificato il mio eventuale arrivo e tutto quello che è accaduto, tant'è che mi hanno anche dato un appuntamento telefonico alle due per parlare col maresciallo, ma ho detto che non chiamerò più successivamente perché tanto ho notiziato in maniera formale, come poi è da procedura, il fatto che se questi signori non rimuoveranno entro per una questione di principio e di rispetto della libertà di parole e di pensiero ricordo sancita dalla Costituzione italiana nell'articolo 21, se queste persone non provvederanno a rimuovere tutti gli avvertimenti per copyright mandati in modo illecito, sabato come ho confermato, sabato mattina io, Igor, il mio avvocato ed altre persone saremo nuovamente presso il posto dove mi sono recata il 5 di settembre e vi garantisco che è l'ultima cosa che ho voglia di fare questa, però queste persone vanno fermate con ogni mezzo a disposizione della tutela del cittadino, quindi come ho detto in precedenza e non per fare sfoggio di cultura perché comunque è un modo di dire tra l'altro appannaggio anche di chi non ha studiato il latino, io non farò ulteriori comunicazioni né via youtube né via instagram né via tenenza di là perché tutto quello che dovevo dire l'ho già detto, io lascio il tempo a queste persone fino a venerdì prossimo venturo a mezzanotte, parliamo di venerdì 27 settembre per rimuovere tutti gli avvertimenti per copyright mandati in modo illecito, dopodiché se questo non avverrà sabato mattina io, Igor, il mio avvocato ed altre persone di cui non sono tenuta a fare né nomi né a fornire altri dettagli, saremo di nuovo in tenenza, scrivete quello che volete, attaccatevi sugli specchi, rotolatevi sugli specchi, offendete, fate quello che volete, questa storia è finita il 5 di settembre, non potendo più urlare e strepitare, hanno pensato bene di poter modificare nella loro fantasia la costituzione italiana, dibattito su cui sono anni, sono anni che si dibatte sulle modifiche della costituzione italiana, tra l'altro nessuno si è mai sognato di voler modificare la libertà di pensiero e parola, questa è la mia ultima comunicazione in merito, adesso carico, dopodiché io ho una parola, l'ho già dimostrato una volta, l'uomo per la parola, il bue per le corna, io aspetto, aspetterò sabato mattina di verificare se tutti gli avvertimenti per copyright illeciti saranno stati ritirati ed è una pura questione di principio, dopodiché se così non sarà, ci vedremo stesso posto, forse non stessa ora perché arriverò prima e non vado accompagnata perché ho paura, perché non ho nessuna paura, vado accompagnata per altri motivi che non vi posso dire, per il resto dite che sono ossessionata, dite quello che volete, provate voi a passare sotto le grinfie di quei soggetti indefinibili e inqualificabili, perché ancora non sono stati inventati appellativi adatti a quelle persone, a me non interessa, ok? Adesso si va, nonostante io sia letteralmente sfibrata dalle ore ed ore trascorse, tra un impegno lavorativo e uno di studio reali, non immaginari, per fare scene, fare show, a buon intenditor poche parole, passare ore ed ore, da carabinieri, polizia postale, tutto, per riavere, tra l'altro cosa che nessuno mi potrà dare indietro, il tempo, il decoro della mia persona che ho conservato e curato nel corso degli anni per aver ricevuto una buona educazione, perché con le lauree, per quanto la mia laurea sia assolutamente reale e le mie qualifiche di nutrizionista e tutto il resto siano assolutamente reali, il fatto che io mi stia laureando in medicina è assolutamente reale, però con le lauree ci si può pulire anche il sedere, qua non parliamo di lauree, parliamo di persone, questa è l'ultima comunicazione che farò, quindi un eventuale silenzio in merito, perché mi è stato raccomandato di non, io volevo prendermi una pausa di qualche giorno, perché sento veramente il bisogno di un allontanamento da qualsiasi, non solo social, sento proprio il bisogno di spegnere qualsiasi dispositivo, e non me ne vogliate le persone a cui voglio bene, che mi vogliono bene, non è assolutamente per voi, ma sono veramente logorata da questa situazione, però mi è stato raccomandato di non dare adito a questi esseri inqualificabili, di poter anche solo lontanamente pensare che io abbia paura, io non ho nessuna paura di niente, non ho nessuna paura, voglio semplicemente tornare alla mia vita, ok? Poi, chi ha l'intelligenza di capire, capisce, chi vuole continuare a foraggiare lutti veri, immaginari, presunti, reali, a me non interessa che siano veri, che non siano veri, che vogliate donare, sono i soldi vostri, volete andare a bruciare le banconote in piazza, fatelo, volete lanciarli per aria, tirandovi giù gli slip, i boxer, mostrando il posteriore come abbiamo visto in passato, fatelo, non è affar mio, non è affar mio, non mi interessa, non è questo il fulcro della questione. Se voi volete continuare a dare credito ad una persona, a più persone che hanno sfruttato la vostra ingenuità per succhiarvi anche l'ultimo centesimo, persone che si sono private della spesa per aiutare persone che dovevano pagarsi le manicure e il parrucchiere, sono problemi vostri, a me non interessa, ok? E con questo il discorso momentaneamente è accantonato, ma rimane il fatto inciso sulla pietra simbolica che se i signori in questione entro venerdì 27 settembre a mezzanotte non avranno ritirato tutti gli avvertimenti illeciti che hanno mandato, cosa che sarà comunque poi fatta per via delle contronotifiche, ma è una questione di principio. Ci rivediamo sabato, nello stesso luogo dove sono stata il 5 settembre. Vi metto in copertina la chiamata che ho fatto, oltretutto la chiamata l'ho interrotta rapidamente io perché mi stavano dicendo, aspetti alle due parli col maresciallo, non devo parlare più con nessuno, ho notificato dove mi trovo ora, presso le opportune sedi che, e quindi comunicheranno tra di loro che se questa cosa non avviene io sabato sarò là, per il resto io questa settimana mi devo occupare dei miei esami all'università, devo rifare le analisi del sangue, devo programmare l'intervento alla mano perché mi sono fatta male sotto Pasqua e dovrò fare un piccolo intervento che però non ci voleva in questo momento, però ho difficoltà anche a compiere movimenti di torsione banali, tipo strizzare uno straccio per intenderci. Ho tutti, sicuramente tutti i valori delle vitamine, dei minerali sotto le scarpe, perché me ne accorgo da esantemi, rasce, ormai con la mia situazione di salute conosco perfettamente il mio corpo e come si comporta, quindi questa settimana io non mi devo occupare di altro, io attenderò fino a venerdì 27 a mezzanotte, sabato mattina mi alzo, tanto sono già d'accordo con tutte le persone che verranno con me e non per paura ma per altri motivi, testimoniali diciamo e assistenziali, se sabato mattina quando mi sveglio non troverò rimossi tutti questi avvertimenti, ci mettiamo in macchina e torniamo là, perché è mio diritto come diritto di tutti per preservare il diritto di parola e di pensiero sanciti in maniera inviolabile dalla Costituzione italiana articolo 21 e con questo vi auguro una buona giornata, ci vedremo nei prossimi giorni per contenuti interessanti se interessano e leggeri, però questo è scritto sulla pietra simbolica, a differenza di cose che stanno scritte solo sui boschetti della fantasia, ok? Ma questo non è affar mio, proprio non mi interessa, non mi interessa, vi auguro una buona domenica e ci vediamo prossimamente per cose molto più easy, un bacio a tutti e grazie per il sostegno, ciao!